Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di vermicelli 5 acciughe salate 80 grammi di pecorino grattugiato 80 grammi di mollica di pane Mezzo bicchiere d'olio Sale Preparazione Pulire le acciughe Lavarle Spezzettarle e metterle in un pentolino con l'olio Unire la mollica di pane sbriciolata Regolare di sale e fare insaporire per qualche minuto Cuocere i vermicelli al dente in abbondante acqua salata Condirli con la salsa preparata e pecorino e servire Il piatto è pronto Buon appetito!